con la prima serata, e si congeda dal terzo festival di Sanremo condotto dall'amico Amadeus, a cui consegna il trofeo del comune di Sanremo. Difficilmente vengo premiato, meravigliosi questi tre anni, non li dimenticherò mai, ha detto il conduttore, e Fiorello, neanche io. Poi il comico regala un altro momento di grande divertimento, tra l'imitazione di un pitbull, e la trasformazione di una mamma siciliana, che richiama il figlio dalla finestra. L'anno scorso è stato un po', tornare qui e trovare la platea piena mi ha emozionato moltissimo, ha detto Fiorello, che non è sembrato volere raccogliere l'appello a restare, neanche quando Amadeus gli ha consegnato un appello delle maestranze Rai, ho da fare, ho il mio spettacolo teatrale, ha detto. Fiorello dice addio a Sanremo non ce l'ha fatta a restare. Grazie a tutti.